Benvenuti a tutti. In questo video vedremo alcune delle caratteristiche generali delle leggia greca di età arcaica. Iniziamo subito con alcune proposte di definizione e di origine del termine. Partiamo dal termine stesso elegeia che indica il genere poetico e elegeion che indica il metro utilizzato per questa poesia. Sono termini che non compaiono prima del quinto secolo a.C. e che sono connessi alla parola elegos rara e dall'etimologia discussa. Qui abbiamo alcune proposte dai vari scoli a noi disponibili. Una prima spiegazione è questa elegos o trenos parato eulegein tus tanontas ovvero sia elegos lamento o trenos dall'elogio comparato eulegein tus tanontas ai morti. Altra possibilità elegos trenos apotu e e leggein elegos lamento dal verso ai ai dal dire dal leggein e e ai ai. In entrambi i casi però si riconosce un tono malinconico dell'elegos che viene riferito sempre al termine trenos. I linguisti moderni invece collegano questo termine a un'origine frigia e all'armeno elegn questo termine così abbastanza extra greco diciamo non ellenico che indica il flauto che sta a significare insomma che questo genere poetico può essere eseguito anche con l'accompagnamento di strumenti a fiato. origini e contesto allora l'elegia come genere poetico nasce presumibilmente in Ionia intorno all'ottavo secolo avanti cristo perché possiamo dire che la data di riferimento all'ottavo secolo avanti cristo perché i frammenti più arcaici che abbiamo di elegia sono databili intorno al settimo secolo avanti cristo e questi frammenti denotano una forma poetica già raffinata già giunta a un certo grado diciamo di complessità e di regolamentazione per cui possiamo dire come genere letterario sicuramente lo datiamo come nascita a qualche tempo prima perché non è nato già perfetto già rifinito e quindi ha avuto bisogno chiaramente di un'evoluzione. Come altri generi di poesia lirica di quella che noi chiamiamo poesia lirica è il prodotto poetico di una classe nobiliare o aristocratica dunque come il jambo abbiamo un contesto aristocratico e in particolare come contesto di esecuzione abbiamo quello del simposio che è un luogo di confronto sia tra gli uguali quindi tra membri di una stessa associazione che si riunisce appunto intorno al mangiare e al bere sia tra ospitanti e ospitati quindi un momento anche di contatto se vogliamo tra personaggi appartenenti a cerchie diverse. Qual è il contesto di sviluppo ed esecuzione? Ovviamente abbiamo una connessione con l'esecuzione orale ecco al simposio durante il simposio si eseguivano appunto delle elegie come si eseguivano dei giambi per cui abbiamo un riuso di testi ecco già già prodotti e anche una comunicazione mnemonica ovvero sia il fatto che questi testi vengono memorizzati e tramandati e agonale ovvero sia che vengono fatti anche degli agoni vengono fatte delle gare poetiche. Il simposio aristocratico dunque è privato non legato alle esigenze di ritualità sacrale come simposi di altro genere ecco quelli invece legati per esempio a letterie e quant'altro e quindi abbiamo una dimensione di intrattenimento ma anche di comunicazione impegnata. L'elegia si configura come poesia d'occasione condizionata dalle circostanze legate alle circostanze politiche o sociali in cui viene prodotta ed eseguita e dai temi guerreschi e politici destinati a una collettività che possiamo riscontrare in questo genere poetico possiamo dedurre un possibile contesto esecutivo diverso dal simposio aristocratico privato in particolare a Sparta. A Sparta abbiamo una tradizione arcaica di recitazioni agonali ovvero sia sempre in competizione di elegie di tirteo nei sussitia i sissizi ovvero sia i passi comuni degli spartiati o presso la tenda del re durante le campagne belliche questo è un esempio di possibile contesto esecutivo differente. Quali sono gli autori e i temi di età arcaica? Intanto partiamo ecco da una constatazione partiamo dalla constatazione che appunto l'elegia è composto in versi dattilici l'edistico elegiaco è composto di un esametro dattilico di stampo epico e di un pentametro che è composto sostanzialmente di due primi e mistichi ecco di un esametro quindi abbiamo un collegamento dal punto di vista metrico con la poesia epica a fronte di questo con questa connessione abbiamo invece una diversità di argomenti cantati abbiamo callino e tirteo che cantano nell'elegia esortazioni e ammonimenti come vedremo c'è la cosiddetta elegia parenetica abbiamo in mimnermo la presenza di temi amorosi abbiamo invece conteognide accenti sentenziosi e morali solone privilegerà temi politici mentre semonide temi civili. Qual è la modalità di esecuzione? l'esecuzione è monodica quindi abbiamo un solista sostanzialmente che esegue l'elegia e quindi ci opponiamo ancora una volta alla lirica corale l'esecuzione avviene attraverso un recitativo cantilenato con un sottofondo strumentale di aulos quindi strumento a piatto oppure lira strumento a corda per cui abbiamo un'esecuzione simile alla paracatalogè questo questo mezzo espressivo questa modalità espressiva a metà tra il parlato pure semplice dei recitativi del dramma vedremo poi quando vedremo il teatro e il canto cosiddetto pieno o spiegato con un accompagnamento strumentale complesso con una notazione anche complessa chiudiamo questa parte introduttiva con un paio di considerazioni su lingua e metro ecco il me e la lingua è una lingua di base numerica con coloritura ionica che è costante in tutti gli autori anche in tirteo che pur essendo spartano compone elegie in ionico ecco sparta si parla invece un dialetto dorico e l'uso dato che a un certo punto diciamo a ogni genere poetico corrisponde un dialetto diverso viene considerato anche viene conservato anche successivamente dai poeti alessandrini e dell'enistici il metro e il distico elegiaco troviamo lo schema qui in alto a destra e vediamo che è una breve strofa composta di un esametro d'attilico eccolo qua il nostro esametro d'attilico la forma è quella proprio dell'esametro la stessa della della poesia epica e un pentametro composto di due emistici di esametro la cesura è sempre fissa qui centrale ecco per quanto riguarda le leggia nelle sue caratteristiche generali possiamo chiudere qui e ci vediamo presto per un excursus invece sui suoi autori a partire da mimnermo per poi proseguire con callino e tirteo e alla fine solone sono quelli che noi a scuola abbiamo fatto chiaramente ce ne sono anche degli altri che abbiamo menzionato sopra però appunto noi ci siamo soffermati su questi dunque buon ripasso e a presto